1, 2, 3, 4 Terza giornata amara per i colori della Zambelli-Orvieto che si trovava in vantaggio 2-0 contro Caserta ma poi non è riuscita a concretizzare neanche stavolta l'intento che cosa è successo con il presidente Flavio Zambelli commentiamo questa sconfitta Ma veramente incommentabile sembra di stare su scherzi a parte doveva essere la partita del riscatto dove ripartivamo con tre punti per una bella rincorsa nel campionato solo il primo set abbiamo veramente convinto poi il secondo già una vittoria blanda e poi blackout totale abbiamo preso non so quanti muri non so quanti errori in battuta quindi veramente incommentabile non saprei come altro definire un Karakiri del genere dopo che stavamo comunque 2-0 alla fine avevamo visto una Zambelli a Cuneo in grado di mettere in difficoltà una delle favorite avevamo proprio chiesto alle giocatrici in settimana di tenere la stessa intensità di Cuneo anche quando giochi contro le squadre di bassa classifica fermo restando che adesso lo siamo anche noi di bassa classifica perché quando ti siedi sui ritmi blandi dell'avversario poi rischi di finirci anche tu e anche peggio ed è quello che sostanzialmente è successo Oggi mancava Mila Montani accomodata se in panchina per un problemino fisico è stato questo forse il motivo di un cambiamento di equilibrio in campo che dopo 2-7 ha cominciato a palesarsi? Sicuramente Mila se c'è è meglio però non è un controcaserta che può sentirsi l'assenza di una giocatrice anche perché poi Michela Cerrocchia aveva fatto una buona prestazione secondo me è proprio un blackout mentale di una squadra che pensava che tanto sul 2-0 poi arriva anche il 3-0 e il 3-0 non arriva se non stai con la testa e se non tieni lo stesso ritmo, la stessa intensità Adesso si torna a lavorare subito perché c'è una nuova opportunità Domenica c'è un'altra partita in casa contro Montecchio Mangiore cosa chiederà il Presidente alla squadra? Beh, chiederemo tutti di ritornare ai ritmi della partita contro Cuneo che è quello che gli avevamo esattamente chiesto in settimana di fare contro Caserta e di non guardare a quella caserta che avevamo visto al trofeo Città di Alatri quindi non possiamo che richiedere questo poi naturalmente cerchiamo di capire l'allenatore cosa intende fare adesso in questi due giorni però è logico che serve un cambio di ritmo radicale perché oggi veramente è da scherzi a parte è quello che è successo Grazie